Io ci tengo in questo intervento di questo amico, che io chiamo amico, perché è comunque un ragazzo, per fortuna un ragazzo molto giovane, che va avanti, che porta avanti questa tradizione in maniera impeccabile, studia al conservatorio e questa è una cosa molto molto bella perché evidentemente questa tradizione non la facciamo morire, ma attenziamo la potenziamo, soprattutto in una struttura importante quale è quella al conservatorio. Io chiamerei Daniele. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.